Il suo voto nella mia review è un bel 7,5 dal momento che è gratuito e disponibile tramite obiettivi come detto prima quindi per l'ibridabilità ottima, per l'utilizzo come Ilanga, come De Bruyne nelle squadre per la Silver Star, per Launch Argento, per il capolavoro manageriale può essere assolutamente un'ottima alternativa all'interno della difesa. Per squadre di basso budget di Bundesliga ci può assolutamente stare, abbinatelo come detto prima ad un giocatore particolarmente forte dal punto di vista tattico e con squadre con un budget già particolarmente elevato che per esempio hanno già su le eviterei, nel caso per me il suo completamente è sempre consigliato dal momento che vi può aiutare in tanti obiettivi. Nel caso che state pensando di inserirlo in squadra per squadre di basso budget ci può stare, per squadre con un budget medio alto secondo me ci sono altre alternative e quindi il suo inserimento in squadra è un po' condizionato in questo caso.